Io sono in compagnia di Emanuele Rigu, New Trader Lappa, buon pomeriggio Emanuele, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Alexandra, grazie per l'invito come sempre. Allora, parto naturalmente con questo nuovo aggiornamento dei massimi storici dell'S&P 500 e poi vorrei chiederti un parere anche appunto su un tema piuttosto importante, e c'è inflazione. A tuo avviso la Fed sta un po' sottovalutando la situazione con l'inflazione o meno? Allora, non mi sento di dire che la Fed stia sottovalutando la questione dell'inflazione. La Fed è consapevole, consapevolissima della situazione sull'inflazione, ovvero che si sta surriscaldando la dinamica dei prezzi, ma per il momento sta cercando di giocare a palla, come si dice, play ball in gergo anglosassone, con il mercato e con la situazione e l'economia sottostante. Powell, tra l'altro, è stato molto chiaro nel discorso anche ieri al Fondo Monetario Internazionale, ha confermato in buona sostanza quello che ha detto nell'ultima riunione di politica monetaria, ovvero che la Fed è consapevole del rischio momentaneo, a quanto dicono, del surriscaldamento dei prezzi, e quindi un rischio inflazionistico e un possibile overshooting dell'inflazione rispetto al target della Banca Centrale Americana, ma per il momento continuerà ad essere accomodante, sostanzialmente mettendo in secondo piano il discorso dell'inflazione rispetto alla ripresa. Questo è uno scenario di cui il mercato si sta rendendo conto, si sta rendendo conto che per il momento la festa continua, Powell ha detto che la Fed sarà accomodante ancora per qualche tempo, però è chiaro che sono tutte dichiarazioni che stanno cominciando a far sollevare le classiche bandierine rosse o far suonare i campanellini d'allarme, per cui attenzione, questa non è una situazione duratura, ma per il momento è così. Questo è il quadro generale. Sottovalutare direi di no, i dati almeno per il momento sono piuttosto incontrovertibili, hai ricordato tu poco fa il PPI, che sia nella componente aggregata che nella componente core è balzato ben oltre le attese, la Fed però in realtà non usa il PPI, usa il PCA, il Personal Consumer Expenditure, che è la misura preferita dell'inflazione, che non ha sorpreso così tanto a rialzo, come stanno facendo invece gli indicatori CPI, che è il classico indicatore sull'inflazione, e il PPI, che è l'indice di prezzo alla produzione. Per cui per il momento i rischi sono presenti, ma tutto sommato dei rischi calcolati, diremmo, in gestione del rischio. Però è molto evidente, il mercato lo sta dimostrando, che questa situazione non può durare per sempre, sicuramente prima o poi si arriverà a dover prendere atto della situazione e della sua evoluzione. Sì, davvero, perché comunque questi, naturalmente questo rally, questo mercato toro, sta andando avanti con una forza davvero incredibile. Intanto potrebbe esserci, a tuo avviso, anche qualche movimento sul mercato obbligazionario o meno? Beh, per il momento faccio fatica a vederlo, si è mossa la curva dei rendimenti sui Treasuries, per esempio nella parte a vent'anni, dopo che la vicepresidente della Fed New York, che si chiama Logan, dopo Dudley che è andato evidentemente in pensione, abbiamo un nuovo nome da imparare, sostanza ha segnalato che la Fed di New York, quindi la sede di New York della Federal Reserve, starebbe adeguando gli acquisti su quella parte di curva che è rimasta un attimino indietro. Da questa parte dell'Atlantico, perché qui sappiamo i tassi si muovono in maniera abbastanza organica in questo periodo, un po' su tutto il panorama globale, la BCE ha fatto sapere, per mezzo del suo presidente, Chris Hillagard, che ci sono tutte le armi a disposizione e intenzione di usarle per mantenere sotto controllo la dinamica dei tassi di interesse, per cui è un rischio che per il momento ancora non vedo, però vale lo stesso discorso che facevo prima. Questa situazione va così finché smette di andare così, per cui serve veramente tantissima attenzione, perché questo è un periodo che potrebbe anche rivelarsi di grande cambiamento. Andiamo a vedere anche l'indice del dollaro, perché si sta rafforzando, ma ciò che mi interessa di più è sentire il tuo parere su un altro tema, e cioè tantissimi analisti americani hanno fatto appunto questa affermazione piuttosto importante, e cioè che il bitcoin è stato creato per distruggere il dollaro e essere naturalmente gestito dai cinesi, secondo loro, secondo tantissime analisti che tra l'altro è uscito anche su tanti media. Secondo te il bitcoin in qualche modo mette in pericolo il dollaro? Si può parlare di un'ipotesi simile o meno? Perché naturalmente sembra strano, in quanto non c'entrano nulla, il dollaro rimane comunque la valuta più importante a livello mondiale? Secondo me in queste dichiarazioni c'è un misto di mistificazione o di hype da criptovalute e una buona componente diciamo dialettico-retorica nella diatriba che c'è attualmente tra Stati Uniti e Cina, quindi secondo me va più che altro filtrata questa affermazione. È molto difficile che il bitcoin sostituisca il dollaro, è molto difficile che il bitcoin riesca nell'obiettivo di sostituire qualunque valuta fiat principale, dollaro, euro o yen in prima istanza. È chiaramente un asset, questo l'abbiamo detto anche con te in diverse occasioni e su questo non ci piove, il suo valore è soggetto a variazioni come tutto, però arrivare in questa fase a dire una cosa del genere, penso più che altro che vada filtrata all'interno di un contesto di inasprimento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, dove gli Stati Uniti, notizia tra l'altro penso ieri sera o di stamattina, ci sono e hanno intenzione di inserire sette società tecnologiche cinesi in blacklist, giustificando ovviamente un po' come sempre con un motivo legato alla sicurezza nazionale. Ecco, le relazioni tra Stati Uniti e Pechino, queste sicuramente per il momento e anche nell'era Biden, come tra l'altro era prevedibile, non si distenderanno, per cui possiamo aspettarci sicuramente un inasprimento delle relazioni, soprattutto tra i due paesi, ma poi a cascata anche sugli altri player globali che hanno una certa rilevanza dal punto di vista commerciale. Però penso che siano dichiarazioni che col bitcoin in sé non hanno niente a che fare. È un punto interessante perché assolutamente suona in maniera interessante, tra l'altro abbiamo parlato durante le fonti international con Dan Grams, che è un altro trader molto interessante e anche abbastanza famoso, il quale ha detto che ha i propri dubbi nei confronti del bitcoin, proprio sotto questo punto di vista, che naturalmente io da persona neutrale trovo abbastanza strano. Intanto torniamo sul comparto tech, in quanto stiamo parlando molto spesso di questa liquidità in eccesso, forse negli Stati Uniti più di 4 trilioni, 4 mila miliardi, in questo punto tra il piano dell'amministrazione Trump, il nuovo piano Biden, poi non parliamo di quello nuovissimo piano infrastrutturale proposto, ma tuttora non un fatto, naturalmente bisogna essere votato e così via. Ma quest'ultimo comporta anche il rialzo delle tasse, sia della tassazione minima sulle aziende, si parla anche di una tassazione globale, ma soprattutto tasse sui ricchi e sulle aziende più redditizie, che è un'altra tassa ancora, non lo so se siamo riusciti a far capire questo punto, che si tratta di tassazione diversa. Che impatto potrebbe avere sul comparto tech, se ha alcun impatto? Secondo me è abbastanza marginale, abbastanza marginale perché i margini, è un gioco di parole, mi scuserete, perché i margini delle aziende del comparto tecnologico hanno dei margini talmente alti e una capacità di creare reddit totalmente importante rispetto a settori più tradizionali dell'economia, che vedo molto difficile che un rialzo delle tasse possa andare ad influenzare negativamente questo tipo di aziende. Il secondo punto che volevo toccare è legato al fatto che ci sono delle sacche di ricchezza veramente importanti di marginalità che attualmente non vengono toccate per effetto di un codice fiscale particolarmente permissivo e con dei loophole, quindi con dei vizi di forma, se volessimo tradurlo in italiano, che lasciano abbastanza desiderare. Per cui da questo punto di vista, secondo me, si andrebbe sì ad inficiare sulla redditività di aziende che però hanno dei modelli di business e della capacità di generare reddito che è assolutamente indiscutibile, per cui rialzare del 5% la tassazione sulle aziende su questo tipo di iniziative di aziende difficilmente andrà a creare degli scompensi o delle questioni negative. Allora, spostiamoci velocemente in Europa, in particolar modo a Piazza Affari. Vorrei farvi vedere un titolo che oggi forse è uno dei titoli più discussi, ovvero TOTS. Questa è la quotazione a Piazza Affari. Era sospeso, tra l'altro, ancora in apertura perché è stata annunciata all'entrata di Chiara Ferrani nel CDA di TOTS ed il titolo era sospeso proprio in apertura perché c'è stato un rialzo, un spike rialzista che stiamo, tra l'altro, vedendo dal nostro grafico giornaliero. del quasi 9%. Allora, qual è il tuo parere innanzitutto sull'azienda che, senza alcun dubbio, è un'azienda molto interessante, fa parte del comparto lusso italiano, un'azienda, immagino, di cui l'Italia va orgogliosa a livello internazionale, ma è logica questa reazione del mercato, questo effetto Chiara Ferrani che stiamo notando sul titolo? Allora, sì, assolutamente. Tra l'altro è stata sospesa un paio di volte, forse questa mattina, per eccesso di rialzo sul mercato, arrivando a segnare, tra l'altro, già in prima mattinata il 9%, oltre il 9% di rialzo. L'effetto Chiara Ferrani sicuramente ha un impatto sull'immediato, ma potrebbe averlo anche sul futuro, proprio perché leggevo le dichiarazioni dell'annuncio legate alla nomina di Chiara Ferrani e del CDA, che in buona sostanza andavano a toccare alcuni punti, ovvero l'impegno sociale, solidarietà e sostenibilità, che sono temi che anche da un punto di vista delle dinamiche e degli investimenti attuali, diciamo, una degli acronimi più sentiti ultimamente è ISG, che vuol dire esattamente questo, sostenibilità, inclusione e impegno sociale, e questi investimenti sono quelli prediletti dagli investitori, c'è sempre maggiore attenzione, per cui, diciamo, è anche una mossa commerciale nella mossa commerciale, per cui, penso che sia assolutamente giustificato il movimento e molto probabilmente potrebbe andare anche, diciamo, ad invertire un po' quella, diciamo, situazione di indebolimento del titolo che ha avuto più o meno dall'estate fino a, diciamo, la conclusione dell'anno, aveva visto passare da circa 45, 45 fino a poco sotto 20 e qui la situazione sembra totalmente invertita e ad essere direzionata verso, diciamo, quel valore medio che aveva avuto nella prima parte dell'anno scorso. Quindi, giusto per capirci, sei propenso verso l'acquisto del titolo è quello che ci stai dicendo? Ma, sicuramente potrebbe avere un impatto positivo sul propenso, ovviamente dovrei studiarlo un attimino più approfonditamente, però sono convinto che sia una mossa con doppia valenza di marketing, commerciale e anche dal punto di vista degli investimenti potrebbe fare molto bene, per cui sì, assolutamente. Ottimo, allora invece faccio un appello ai nostri telespedatori, scriveteci i vostri messaggi, come fate sempre questa volta, giusto per capire quanti di voi hanno già acquistato il titolo TOZ a partire da questa mattina, naturalmente dopo l'annuncio del fatto che appunto Chiara Ferragni, l'influencer più famosa a livello globale, è entrata nel CDA con motivi precisi come hai ben sottolineato tu Emanuele, ISG ormai questo acronimo fa parte sempre di più della nostra vita. E quelle tematiche simili stanno tornando, perché in quest'ultimo anno ne abbiamo parlato solo di Covid e basta, quindi per fortuna stanno tornando sul fronte della finanza anche questo tipo di tematiche. Ultimissima domanda che riguarda naturalmente la ripresa economica, volevamo appunto capire se e come siete posizionati sui mercati, ci interessa da parte vostra anche nei confronti dell'Europa, perché abbiamo parlato proprio con te come ha chiuso il primo trimestre Piazza Affari è stata la campionessa, la regina delle borse europee e quindi questo vi fa, come dire, spostare anche verso l'Europa o siete focalizzati soprattutto negli Stati Uniti? No, c'è molto interesse, c'è molto interesse soprattutto iniziato nell'ultimo, nel trimestre scorso, quello di inizio anno, verso un miglioramento dell'outlook europeo. C'è stato, allora un attimo, facciamo un passo indietro, miglioramento dell'outlook europeo che è ancora pendente ma sempre visto all'interno dell'ottica del taper tantrum, il mercato reagisce meglio alle brutte notizie, quindi è una situazione economica un po' più alla finestra e una necessità da parte della banca centrale, soprattutto quella europea, di continuare ad intervenire. C'è maggiore interesse rispetto all'Europa, secondo me l'Europa in questo momento ha maggiore potenziale da esprimere rispetto agli Stati Uniti, quindi sicuramente in ottica anche di spread trading sui listini globali, l'Europa è da preferire rispetto agli Stati Uniti dove già Powell comincia, l'abbiamo visto prima, a sottolineare come la Fed è ancora accomodante ma per un certo tempo, quindi mette un limite temporale che poi sappiamo benissimo può essere più lungo o meno lungo a seconda di quella che sarà l'evoluzione, però se noi guardiamo dal punto di vista dell'economia sottostante, l'economia americana sta cominciando ad andare bene, la progressione della campagna vaccinale va spedita senza problemi e quindi ci sono buone prospettive per un miglioramento dell'economia. In Europa la situazione è leggermente diversa, la BCE continua a sottolineare, c'è stato un po' di arretramento durante il primo trimestre, ma dovrebbe esserci un nuovo impegno da parte della Banca Centrale Europea ad intervenire con le classiche misure PEP e gli acquisti di titoli anche nel secondo trimestre, soprattutto a favore di alcuni paesi, aumentandoli a 60, più o meno 80 miliardi di media e quindi i mercati, l'azionario, dovrebbe valorizzare positivamente questo continuo impegno della Banca Centrale con una spinta dei corsi, dei titoli su dei livelli che hanno ancora un po' da esprimere, quindi sicuramente l'Europa in questo momento, in questo trimestre sarà al centro dell'attenzione globale su quelli che sono ovviamente le aree economiche con maggiore potenziale da esprimere, soprattutto su ulteriori rialzi relazionali. Questa ultimissima domanda proprio in un flash, questo inondamento di liquidità e poi rialzo delle tasse potrebbe avere effetti collaterali sui mercati? Abbastanza difficilmente perché i mercati sono perfettamente consapevoli di quello che sta succedendo, sono abbastanza consapevoli anche del fatto che questo run, questo rally avrà un termine prima o poi, quindi più che diciamo rialzo delle tasse ci sarà una situazione di arretramento per il venir meno della liquidità, per cui no, non penso in realtà che andranno ad impattare particolarmente se non gli ovvi mal di pancia che le aziende saranno chiamate avranno quando verranno implementate queste manovre, però difficilmente c'è una soluzione alternativa perché il mondo del post pandemia sarà un mondo caratterizzato da livelli di debito altissimi e in qualche modo bisogna trovare una soluzione. Grazie mille, come sempre Emanuele Rigo New Trader Lab, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie a te Aleksandra, buon weekend. a te a a a a a a a Grazie a tutti.